bella, bella tutta ragazzi vedete se si torna al video, guardate questo video, siamo qua con il video, siamo a San Tronilla stiamo, un po' sto sforzando oggi fino ad agosto andiamo sopra, piastro mi vengo a fare il bagno di solito, l'estate oggi, fino a che giorno fostivo, anche persone nazionali, perché è normale un bel po' di gente, un bambino anche questo è il posto dei preferiti qua giù, lo faccio vedere qua, ci sono quei bambini fino a che non c'è una scuola il fibromassaggio qua giù, si cade la risposta qua giù, la mia famiglia non c'è una scuola se non c'è una scuola bravissima si è proprio sopra stazione di atto e se non c'è una domanda poi si arriva sopra c'è anche posto freddante perché state freddante oggi vi è già festivo è normale che ci sia questa gente poi guardate Grazie a tutti.